Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Elsa Fornero, economista e docente dell'Università di Torino, buonasera Luca Richeldi, membro del Comitato Tecnico Scientifico e direttore dell'Unità di Pneumologia al Gemelli di Roma, buonasera Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera. Come avete sentito, con un altro record di contagi, il Comitato Tecnico Scientifico a questo punto dice che un'ipotesi di lockdown generale è realistica, mentre nell'Europa provata dal virus e dalla crisi economica si riaffaccia anche lo spettro del terrorismo islamico. Subito dopo la pubblicità. Grazie. Grazie. Professor Richeldi, poco fa il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo ha detto che quella del lockdown generale in Italia è un'ipotesi realistica. Da 0 a 10, quanto è probabile e quando? Io ritengo che sia un'ipotesi possibile, non penso che sia un'ipotesi probabile, cioè non credo che ci dobbiamo preparare al lockdown come qualcosa di inevitabile. Ricordiamoci che abbiamo preso delle misure molto rigide che se mantenute, se rispettate, dovrebbero dare dei risultati nelle prossime due settimane. Quindi è certamente un'ipotesi che non possiamo escludere, ma non è una cosa che dobbiamo dare già per scontata. Mi scusi, professor Richeldi, siccome poco fa il commissario straordinario Arcuri ha detto che bisogna ridurre al massimo gli spostamenti, che se la curva continua a salire le strutture sanitarie non reggono, che l'80% dei contagiati è asintomatico. Insomma, non ha fatto che le famiglie sono l'epicentro dei contagi, non ha fatto un quadro molto rassicurante. Quindi sembra proprio inevitabile che bisognerà arrivare a un lockdown. Però lei dice che lo tende ad escluderlo, mi sembra di avere capito. Questa è la prima, quindi rinforzo la mia prima domanda e le chiedo anche una seconda cosa, quella dei dati. C'è chi dice che le decisioni e i suggerimenti che il Comitato Tecnico Scientifico dà al governo si basa su quali dati e parlano anche di, non so, uno di Renzi per esempio, un politico che dice che sono misure emotive e inutili. Che cosa replica il Comitato Tecnico Scientifico e dove sono i dati? Dunque, per rispondere alla sua prima domanda direi che così come era molto sbagliato quest'estate è considerare la questione risolta e quindi abbassare la guardia e quindi pensare che tutto fosse risolto e che potessimo tornare alla vita che avevamo prima di febbraio. Così è, secondo me, ancora più sbagliato probabilmente pensare che sia tutto perso e che quindi dovremmo per forza rimanere in lockdown, non si sa per quante settimane. Il Commissario Arcuri fa bene a richiamare le responsabilità, fa bene a richiamare al rispetto delle misure che ci siamo dati come comunità, ricordiamoci come comunità. Per quanto riguarda il Comitato Tecnico Scientifico si basa su due tipi di dati. Uno, quello che viene pubblicato sulla letteratura scientifica, che è una letteratura internazionale che ovviamente seguiamo e che è la base sulla quale si muovono sostanzialmente tutti i governi del mondo e sui dati che produce l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute. Molto precisi, molto aggiornati, su base settimanale. Quindi direi che di emotivo non c'è niente tranne l'angoscia del futuro del nostro Paese per il quale ovviamente siamo tutti molto preoccupati, ma non credo che questo sia la base per prendere delle decisioni su base emotiva. Il Comitato si chiama tecnico scientifico proprio perché esamina dati tecnici e si basa sulla scienza per suggerire delle misure che poi vengono naturalmente implementate dalla politica sulla base di quello che è possibile. Beppe Severnini, tu scrivi che sta crescendo nel Paese la frustrazione, la voglia di dare la colpa a qualcuno di quello che sta succedendo. Il Comitato Tecnico Scientifico si sta prendendo una parte della colpa? Beh, io non me lo vedo, come si dice, le folle che scendono in strada dicendo abbasso il Comitato Tecnico Scientifico e il Professor Richeldi, tutto sommato. Però vedo, ed è vero, l'ho scritto, l'hai ricordato, proprio il desiderio di trovare qualcuno a cui dare la colpa. Vada bene che è comprensibile. Non sto sgridando, poi non tocca a me nessuno. È comprensibile. Quindi c'è il governo, le regioni, le autorità, le regole, le chiusure, anche perché alcuni errori sono stati fatti. Quante volte li abbiamo ricordati anche qui. A Milano il tracciamento è completamente saltato. La gente lo sa dall'azienda, lo sa dal collega, neanche dall'app Immuni. Fare un test rapido a Milano è praticamente impossibile. Per i test, per i tamponi bisogna andare dai privati. Leusca, la continuità territoriale, queste unità per aiutare nell'assistenza domiciliare, ce ne sono 13 a Milano. Cosa possono fare? Eccetera, eccetera. Quindi la gente, tu hai un ristorante, ti hanno fatto spendere i soldi per la sanificazione, per i disinfettanti, per gli schermi, per la temperatura e adesso devi chiudere. Capisco che è necessario chiudere, ma capisco anche uno che è furibondo. Posso aggiungere ancora una cosa? Manca, secondo me, la percezione della gravità della situazione da parte di moltissima gente. Cioè a furia di gridare al lupo al lupo, e devo dire che anche scienziati, virologi, caro professore, qualcuno anche, di noi non parliamo, nei media abbiamo tante colpe, però anche voi, a furia di gridare al lupo al lupo. Adesso che il lupo si affaccia davvero, la gente non ci crede, è molto evidente che la gente... e quindi bisogna insistere, i dati delle terapie intensive, oggi a Milano più 57, dei ricoveri, oggi a Milano credo più 280, questi sono i dati che ci devono preoccupare, perché altrimenti la gente non capisce, si arrabbia e cerca solo, ripeto, qualcuno cui dare la colpa. Professoressa Fornero, lei è d'accordo? Che cosa succede quando l'opinione pubblica comincia a mettere pesantemente in discussione i cosiddetti tecnici, gli esperti, gli scienziati? Io dico che è la politica debole, poco coesa, che in un certo senso incoraggia le persone verso la ricerca di un capro espiatorio. Quando la politica è più credibile, anche agli occhi dei cittadini, più forte, ha un'idea della direzione, pur con tutta l'incertezza che c'è e che, peraltro, mi sembra anche che stia aggravandosi, quando la politica è debole la gente cerca qualcuno contro cui prendersela, ma in un qualche modo è indirizzato dalla stessa politica e questo non è mai un buon presagio, perché aumenta lo stato di confusione e aumenta i costi, anche economici e forse anche sanitari, di questa situazione confusa. Quindi bisogna che ciascuno si assuma. Lei ha detto prima che il Comitato Tecnico Scientifico ha detto che è verosimile. Io non lo so, credo che il Comitato Tecnico Scientifico parli per documenti che hanno una certa formalità e che vengono anzitutto passati alla Presidenza del Consiglio e immagino che abbia, almeno così credo, una struttura tecnica molto pesante che elabora tutti i dati, anzitutto, perché i dati non è che basta guardarli su un foglio di carta e quindi immagino che sia da un modello anche piuttosto complesso che vengono fuori queste raccomandazioni. Il Comitato deve casomai raccomandare al Governo, al Presidente, secondo i nostri dati, a questo punto una chiusura si impone. Ma dire che è probabile, senza specificare quanto probabile, secondo me, se posso dire, anche questo è un elemento che aumenta l'inquietudine delle persone e non chiarisce niente. Ecco, ricordiamo che è stato il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Miozzo a dire che il lockdown generale in Italia è un'ipotesi realistica. Maurizio Molinari, forse tutti parlano troppo. È vero che in un momento come questo l'opinione pubblica ha bisogno di risposte, ha bisogno di informazioni, il problema è sempre quello come darle. E aggiungo anche un'altra questione, quella dell'opposizione. Salvini poco fa ha detto che lui farà di tutto per evitare un nuovo lockdown generale e però ha detto che in ogni caso, se ci sarà, sarà colpa del governo Conte. Ha ragione ed è un messaggio che può convincere la maggioranza della gente? Io credo che nella fase 2 della pandemia ciò che più serve di fronte a un virus più diffuso nel paese, anche se forse meno aggressivo, è una migliore collaborazione fra il governo centrale e le regioni. Noi sappiamo che il governo è un governo di centro-sinistra e sappiamo che le regioni in maggioranza sono di centro-destra. Le questioni che prima Severgnini giustamente ricordava hanno a che vedere soprattutto con la medicina del territorio, avere una migliore tracciabilità dei contagiati, avere una migliore efficacia dei medici di famiglia a sostegno degli ospedali, avere una migliore efficacia dei trasporti a sostegno delle famiglie, significa sostanzialmente che le regioni devono sostenere uno sforzo strategico e logistico determinante, perché questa è la differenza con la prima fase dove invece il virus era concentrato in alcune regioni e quindi era gestibile dal governo in maniera diversa, invece adesso è esteso su tutto il territorio e quindi tutte le regioni, nessuna esclusa, sono chiamate a una maggiore responsabilità. di conseguenza serve una maggiore responsabilità del governo e dell'opposizione a lavorare assieme. Senza questa intesa, su misure più rigide e più efficaci sul territorio, naturalmente sarà molto difficile superare questa seconda ondata. Professor Richeldi, lei su questo è d'accordo e ha ragione la professoressa Fornero quando dice che in sostanza la vostra comunicazione aumenta, rischia di aumentare e di molto l'angoscia della popolazione, perché ricordiamo che è vero che anche tra voi esperti, virologi, immunologi, siete non proprio sempre d'accordo. Ora è vero che la scienza non è una scienza esatta, però forse qualche danno lo avete fatto o lo state facendo anche voi. Ho apprezzato il suo eufemismo di dire che non siamo proprio sempre d'accordo. Purtroppo questo dipende dal fatto che siamo di fronte a una situazione in cui nessuno ha la ricetta magica, vediamo gli altri paesi come sono messi, volevo tornare a quello che diceva il direttore Molinari rispetto al coordinamento delle regioni, ha perfettamente ragione, è un punto critico chiave e direi che in questo momento un punto critico forse ancora più importante è il coordinamento a livello continentale. I ministri della salute che si parlano tra di loro, perché i provvedimenti in Francia, in Spagna e in Italia, che fanno parte sostanzialmente ovviamente dello stesso territorio, che hanno una popolazione molto simile anche come background genetico, come distribuzione di popolazione fragile, come sistemi sanitari, è indispensabile che a questo punto il coordinamento sia non solo a livello nazionale ma a livello sopranazionale. Questo ovviamente non è semplice da ottenere ma è una di quelle cose che dobbiamo vedere come un frutto positivo di una situazione negativa. Sulla comunicazione del Comitato Tecnico Scientifico io sinceramente non credo che ci sia niente da dire, nel senso che ognuno di noi cerca di fare la parte migliore di quello che si può, pur essendo nessuno di noi un comunicatore professionista. Quindi diciamo magari qualche scivolata o qualche uscita dai binari credo possa essere anche giustificata dal fatto che facciamo un altro mestiere. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio in una situazione in cui in effetti non è semplice anche mantenere una comunicazione univoca perché le certezze non sono così bianche o nere. Professoressa Fornero, lei vede possibile questa collaborazione stretta tra le forze di governo e quelle di opposizione, cosa che auspicano in molti, ma lei come giudica l'attuale situazione della politica italiana? C'è una possibilità di un'intesa più larga? Guardi, come forse ho detto un'altra volta da lei, mi sembra che ci sia affanno nell'azione di governo e anche un malumore nella maggioranza. Si guardano con un po' di sospetto. Vedo che l'opposizione, almeno una parte dell'opposizione, quella che fa riferimento a Forza Italia, mi sembra, almeno nelle espressioni, dice di essere interessata a dare una mano per il Paese e dobbiamo prenderlo come una dichiarazione di buona volontà per aiutare a risolvere. Negli altri casi ogni tanto c'è la mano tesa, ma subito dopo c'è una critica devastante che fa sembrare quella mano tesa un po' una finta. Quindi purtroppo io credo che non ci sia ancora, io mi auguro che ci sia, proprio perché la situazione lo richiede, quella collaborazione che darebbe un po' di respiro alla popolazione. E invece il fatto che ci sia molta critica alimenta le proteste, perché qualcuno dice, eh no, ma non hanno fatto abbastanza, eh no, ma hanno dimenticato voi, dimenticando a sua volta che nessuno è perfetto e che quindi anche un decreto che nasce in fretta può nascere con qualche dimenticanza. E poi bisogna metterla a posto, perché non è pensando di fare per la perfezione che si può governare. Questo è assurdo. Beppe Severnini, l'abbiamo ricordato in apertura di questa puntata, che oggi a Nizza c'è stato un feroce attentato del terrorismo islamico. E siccome pare che questo attentatore, qualora fosse uno solo, un tunisino, si è arrivato in Italia a settembre, si è passato per un centro di accoglienza a Bari e poi si è andato in Francia a Nizza, Salvini ha detto poco fa che il Premier Conte e la Ministra dell'Interno, la Morgese, non solo dovrebbero chiedere scusa, ma sono i responsabili morali di quello che è accaduto a Nizza. Sta in questi termini, è così anche semplice la questione, perché non sono tanto certa che possono essere considerati responsabili, né morali né materiali ovviamente. Quando la professoressa Fornero, parlando della pandemia, però diceva che ci sono poi delle uscite che ti fanno cadere le braccia, dici vabbè ma se dobbiamo collaborare non si può far così. Ecco questa, su un altro tema, è una di quelle uscite. Allora io ho letto anche che Salvini ha chiesto le dimissioni del Ministro dell'Interno, la Morgese, ragazzi non si è rimesso lui che ha promesso di mandar via tutti i clandestini e sono ancora tutti qua, quindi no. La questione è grave quello che è accaduto, perché pare proprio che questo ventunenne tunisino fosse arrivato a Lampedusa, è passato da Bari, poi è sparito, classico, è ricomparso a Nizza dove ha ucciso tre persone con un coltello, è una cosa tremenda, però è grave, è una cosa che dovrebbe angosciarci e preoccuparci tutti, perché noi nel 2016 ce lo siamo dimenticati, ci ricordiamo cosa è successo anche a Nizza tra l'altro e altrove, in Francia, in giro per l'Europa nel 2016, cioè il fanatismo barbaro non è scomparso, era un po' sotto la cenere, ma il fanatismo barbaro sulle menti deboli provoca queste cose purtroppo e noi dovremmo affrontarle, non abbiamo ancora trovato neppure qui la ricetta per risolverle, certo che accusare di mettetevi tutti, ma figuriamoci. Sei d'accordo Maurizio Molinari, nell'Europa dell'emergenza Covid, il terrorismo sta trovando delle condizioni più favorevoli per tornare a colpire, secondo te? Il giardismo islamico è una minaccia permanente nei confronti dell'Occidente sin dall'11 settembre del 2001, si è manifestato in più occasioni, è un camaleonte, ogni volta cambia la sua capacità di offesa e dopo la sconfitta dello Stato islamico, è meno organizzato, si affida a dei singoli invasati di un'ideologia di morte che puntano sostanzialmente a uccidere il prossimo per affermare una visione distorta dell'Islam. Questa è la minaccia con la quale noi abbiamo a che fare, è una minaccia nei confronti della quale l'Italia ha fatto molto, è un paese che sulla lotta al terrorismo dal 2016 a oggi ha protetto l'Europa e non solamente i cittadini italiani come altri paesi, ahimè, non sono riusciti a fare. Noi dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che i nostri funzionari della sicurezza hanno fatto e continuano a fare mettendo a rischio la loro vita. È vero che questo terrorista ha attraversato il nostro paese, quindi sicuramente c'è stata una falla nella sicurezza, ma è anche vero che il nostro paese molte volte negli ultimi 4-5 anni ha protetto ogni cittadino italiano e anche molti cittadini europei. La lotta al terrorismo viene rimessa in discussione costantemente ogni singolo giorno da chi vuole portarci la morte. I giardisti devono essere confrontati con efficienza e il compito del governo e dell'opposizione è sostenere le forze dell'ordine impegnate su questo difficilissimo fronte. Professoressa Fornero, In Italia anche le tensioni sociali sono in aumento. Per fortuna non abbiamo attentati terroristici, tocchiamo tutto quello che possiamo toccare, però di sicuro le tensioni sociali sono in aumento. Lo vediamo in questi giorni con manifestazioni di piazza, molto spesso infiltrate, per cui anche le ragioni legittime della protesta rischiano di essere offuscate. Quello che sta facendo il governo con l'ultimo decreto ristori è sufficiente intanto per chiudere la falla delle tante piccole imprese che sono danneggiate da queste recenti chiusure? Guardi, è difficile dirlo perché se queste misure cambiano l'orientamento della curva e quindi ci fanno capire nei prossimi giorni che in realtà gli aumenti o almeno la velocità degli aumenti si attenua e poi la curva va verso un appiattimento, allora questo vuol dire che funziona e la gente può pensare, le persone che sono state più colpite dalle misure di parziale lockdown possono pensare va bene ma è un orizzonte breve, il governo ha messo a disposizione delle risorse che nel complesso non sono poche, ha promesso che arriveranno molto velocemente alle stesse imprese, questa è una promessa che andrà verificata ma di per sé va nella direzione di tranquillizzare e quindi se noi avessimo questo scenario non troppo negativo potremmo dire che le risorse sono state sufficienti però nessuno lo può dire e se noi invece andiamo verso uno scenario più negativo e allora non basteranno di certo quello che io penso che il governo debba fare è quello di non promettere troppo perché guardi in economia c'è sempre una cosa che magari è sgradevole e rende gli economisti poco simpatici e certamente gli economisti sono meno scienziati che non i virologi perché hanno a che fare con la società, le sue interazioni, le sue complessità, le credenze e così via però quello che succede nella società ha molta importanza per anche la tranquillità delle persone e quindi se si vede, si sente l'incertezza sulla propria pelle non si sa il proprio destino molte di queste persone che protestavano dicevano io non riesco ad arrivare a fine mese allora bisogna andare incontro a loro però poi c'è e non è ovviamente un terreno in cui io abbia nessuna competenza c'è un problema di sicurezza perché mi pare che sia stato evidentemente provato questo ci sono anche molti infiltrati che fanno parte della criminalità siccome noi sappiamo che la criminalità in Italia non è assente e che ha una grande capacità anche la nostra criminalità di mimetizzarsi di approfittare di certe situazioni e magari di accaparrarsi di risorse che dovrebbero essere indirizzate a coloro che ne hanno bisogno mentre loro le prendono non avendone bisogno per arricchirsi questo è un discorso molto serio non è facile distinguere soprattutto se si deve agire in fretta in emergenza però ci si deve provare quindi i vincoli di bilancio esistono il vincolo di bilancio esiste però scusi rapidissimamente siccome proprio poco fa il ministro francese dell'economia Le Maire ha annunciato che la Francia stanzierà 15 miliardi al mese di aiuti alle imprese rispetto ai 5 miliardi che ha appena varato il nostro governo diciamo che noi siamo dei poveretti questa è la prima cosa la seconda siccome oggi la presidente della BCE Christine Lagarde ha dipinto uno scenario nero per l'economia europea mentre il nostro ministro dell'economia Gualtieri dice che l'Italia ha davanti a sé una prospettiva di rilancio e crescita a chi crede lei di più? Io sono portata a credere di più a Christine Lagarde e mi ha anche un po' stupito questo cambiamento di orientamento del ministro Gualtieri che è sempre stato un ministro prudente nelle dichiarazioni molto realistico e peraltro anche qualche mese fa era stato forse un po' ottimista dicendo l'Italia ho dati che mi dicono che c'è un rilancio significativo quindi noi se va bene finiremo l'anno con una perdita molto inferiore a quella che si prospetta oggi una perdita di PIL che vuol dire una perdita di reddito e allora aveva detto magari stiamo sull'8% adesso siamo più nell'area del 10-12 quindi bisogna dire alle persone la verità non bisogna nasconderla Christine Lagarde l'ha detta in maniera esplicita ma ha anche detto un'altra cosa molto importante che la banca centrale è disposta ancora a fare tutto ciò che è in suo potere per aiutare le economie naturalmente la moneta non è tutto e quindi il fatto che l'Europa possa essere inondata di moneta se la gente ha aspettative nere non la spende rimane lì e non aiuta nessuno e non aiuta nessuno Maurizio Molinari andiamo adesso un attimo negli Stati Uniti perché tu il tuo ultimo libro che si intitola Atlante del mondo che cambia pubblicato con Rizzoli e siccome martedì prossimo abbiamo delle cruciali elezioni presidenziali americane come cambierà questo Atlante del mondo? Le elezioni americane nel momento nel quale l'America si ridefinisce e sceglie la sua nuova identità e c'è un impatto immediato su tutto il pianeta nel caso specifico abbiamo un duello fra un presidente uscente che ha fatto della protesta del conflitto con le istituzioni i partiti la propria identità e su questo ha costruito la propria presidenza all'interno del paese è invece uno sfidante democratico erede della tradizione di Barack Obama che si propone di unire il paese questa è la sfida di fondo di fronte alla quale noi tutti siamo e rischia di essere un testa a testa che può durare ben più della notte dell'Election Day E azzardi una previsione? La grande affluenza alle urne è in anticipo siamo oltre i 60 milioni di votanti sembra favorire il partito democratico in genere il partito dell'opposizione sono i liberal che usano questo strumento quindi evidentemente c'è grande emozione c'è più partecipazione negli sfidanti che non in chi difende la casa bianca io credo che però quindi sicuramente in questo momento in vantaggio sembra essere Joe Biden anche perché il presidente Trump è obbligato a fare dei comizi in stati del sud come il Texas o la Georgia tradizionalmente conservatori detto questo però attenzione perché i dati di oggi sul PIL americano sono molto positivi e se gli americani voteranno nelle urne pensando non al Covid ma all'economia allora Trump potrebbe avere l'opportunità di conservare la casa bianca sei d'accordo Beppe Severnini tu azzardi un pronostico e perché sono elezioni che sono importanti anche per noi per l'Italia sì me lo chiedi secondo me vince Biden vince Biden perché nel voto anticipato Maurizio sono anche di più di 60 a oggi erano 75 milioni di elettori registrati che hanno già votato quindi un terzo del totale tra questi 6 milioni di giovani americani sotto i 30 anni e tra questi essendo elettori registrati si sa la filiazione la maggioranza netta maggioranza sono democratici perché nessuno si azzarda a fare previsioni io l'ho fatto perché me l'hai chiesto perché ci ricordiamo il 2016 e il trauma e la sorpresa è stata tale 4 anni fa che ci vanno tutti i cauti io penso che lui sia stato un disastro per tutto anche per l'economia americana perché non c'è solo il PIL c'è tutto il resto i danni che ha fatto all'ambiente i danni che ha fatto al debito pubblico e compagnia bella rispondo alla seconda parte della domanda perché è importante per l'Italia Lilli perché lui ha dissacrato i valori che rendono l'America grande e leader del mondo lo ha scritto anche l'economist che lo scrive domani questo è il motivo e noi siamo nel mondo e quindi prima Trump se ne va meglio è allora un'opinione netta e chiara e adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che esprime anche un'opinione netta basandosi sui dati come sempre ovvero torniamo al covid in che modo si può rendere più semplice il tracciamento dei contagiati guardate il punto facebook google e altri broker dei nostri dati georeferenziati sanno se sono andato dal mio medico di base se ho fatto il tampone e ovviamente se sono positivo adesso lo sa anche la Carnegie Maloney University che sta lavorando per rendere le previsioni epidemiologiche universali quanto le previsioni del tempo a lei e chissà quanti altri centri di ricerca google sta passando i suoi dati anche facebook e twitter sono in grado di prevedere i contagi e consentire quindi di isolarli l'algoritmo di facebook può georeferenziare il contagio con 14 giorni d'anticipo michele mezza protagonista della campagna per un uso pubblico dei big data e molti con lui si chiedono fino a quando queste risorse possono rimanere patrimonio dell'ufficio commerciale di facebook considerato che i dati li abbiamo forniti gratuitamente noi luciano balbo presidente del centro medico sant'agostino ricorda che il tracciamento unito alla quarantena ha consentito alle economie asiatiche anche quelle senza governi dittatoriali come taiwan corea giappone e singapore di tornare alla normalità in fretta e con danni ridotti intervistato dal corriere agostino miozzo l'esperto della protezione civile che coordina il comitato tecnico scientifico chiede che per interrompere la catena del contagio in alcuni ambiti diventi obbligatorio scaricare l'applicazione immuni e in effetti visto ciò che sta accadendo attorno a noi nelle case negli ospedali negli ospizi opporsi al tracciamento dei contagi in nome della privacy è peggio che delittuoso è stupido siamo in chiusura grazie professoressa Fornero grazie professor Richeldi grazie Beppe Severnini grazie Maurizio Molinari ricordo il tuo nuovo libro intitolato Atlante del mondo che cambia pubblicato da Rizzoli grazie spettatrici spettatori linea Corrado Formiglia su piazza pulita con molti ospiti e quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti